Ragazzi ci tengo a precisare una cosa. Sono un paio di giorni che sto leggendo dichiarazioni fatte dalla ex moglie di Marco Bellavia e dichiarazioni fatte anche dall'ex compagna di Marco Bellavia, dove stanno dichiarando che lui è un manipolatore, che lui sta giocando e che lui sta sfruttando il momento per ritornare in tv e farsi tra virgolette i cavoli suoi. Io mi auguro che questo sia tutto finto e tutta una fregatura, tutte bugie fatte da donne che vorrebbero millantare qualcosa per andare in televisione. Perché se fosse vero io mi incazzerei veramente come una iena, perché ho difeso ovunque Marco Bellavia, non perché lui è il presentatore di Bim Bum Bam o perché mi manca quel tipo di televisione o perché Marco Bellavia è bello. Io ho difeso l'uomo che ha fatto un grido di aiuto, cosa che non ho avuto i coglioni io di fare quando ho avuto per sei anni la depressione. E se fosse vera, e mi auguro di no, una cosa del genere che lui sta utilizzando questo filone per ritornare in tv, poi veramente mi incazzo come una iena e se la vede con me, perché come l'ho difeso poi lo affronto. Grazie. Grazie